Resteranno all'hot spot per tutto il periodo di quarantena e 67 migranti sbarcati sabato al porto di Pozzallo. Nessun è ricoverato in ospedale e tutti in buone condizioni fisiche. Solo qualche caso di leggera disidratazione dovuta alla mancanza di acqua per oltre 48 ore. Sono i migranti salvati dalla nave Ionio della Mediterranea Save Humans, nave arrivata nel momento in cui si concludeva la messa nella banchina in onore di San Giovanni Battista, copadrono di Pozzallo, ad accogliere la nave anche il sindaco Roberto Amatuna. Prima a scendere l'unica donna seguita da quattro giovani del Bangladesh, poi lentamente tutti gli altri migranti a piccoli gruppi di cinque persone. Si tratta di persone di giovane età. L'equipaggio di Mediterranea, tra cui alcuni cittadini di Pozzallo, ha espresso durante un incontro tenutosi a Palazzo di Città con il sindaco Roberto Amatuna una profonda gratitudine alla città di Pozzallo per essersi rilevata ancora una volta a un porto sicuro e pieno di umanità. Intanto, nelle ultime ore, sale a 278 il numero dei migranti sbarcati nell'isola, 211 quelli trasferiti sulla Mobi Zaza dopo essere stati soccorsi dalla Sea Watch in acque internazionali e sbarcati a Porto Empedocle, nell'Agrigentino. La situazione per loro si è sbloccata dopo che il tampone per il coronavirus è risultato negativo su un caso che aveva presentato tutti i sintomi del contagio. Inoltre, da oggi, anche la Ocean Viking torna a operare nel Mediterraneo. La nave della ONG francese OSS Mediterranea è partita questa mattina dal porto di Marsiglia con un equipaggio di 22 persone, un mare quello mediterraneo, che quindi torna a popolarsi di navi ONG. Per il parlamentare ibleo Nino Minardo si ritorna alle solite donne e uomini nelle mani di gente senza scrupoli che, di fronte alla mollezza delle istituzioni, approfitta delle condizioni disperate di chi migra e fa soldi sulla pelle della povera gente. Il governo di Roma, afferma Minardo, continua a autorizzare sbarchi in una regione che si avvicina a diventare covid-free solo perché la sua gente è rimasta a casa quando doveva. E così, mentre la Sicilia punta sul turismo per rilanciarsi, per il governo che continua a parlare tanto e a mantenere poco in termini di aiuti, resta sempre terra di approdo con rischi conseguenziali. La mia provincia, conclude Minardo, con il suo porto di Pozzallo in particolare, è di nuovo sotto la spada di Damocle del rischio.